Buongiorno tifosi bianconeri. Oggi abbiamo una notizia che potrebbe preoccupare molti di voi. Recenti indiscrezioni suggeriscono che Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juve prima. Benvenuti nel nostro canale, se sei un tifoso della Juve e vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime novità, sei nel posto giusto, non perderti nessun video, iscriviti subito e attiva le notifiche. Federico Chiesa sembra migliorare fisicamente e tecnicamente, ma nonostante questo non era titolare nel pareggio con l'Atalanta. Cominciano a circolare molte voci sul numero 7 bianconero. Negli ultimi tempi la Juventus ha sempre rifiutato offerte per Chiesa, ma ora la situazione è diversa. A causa della situazione fuori campo, una grossa offerta per Chiesa sarebbe quasi impossibile da rifiutare. Secondo fonti interne, a causa del momento della Juve che potrebbe pregiudicare i suoi piani per la prossima stagione. Le squadre spagnole Barcellona e Real Madrid stanno già monitorando da vicino la situazione di Federico Chiesa, con molti che dicono che il Real Madrid in particolare potrebbe fare un'offerta allettante per portarlo a Madrid. Federico Chiesa è valutato circa 60 milioni di euro. Bene. Amici bianconeri, discutiamo di questa notizia. Secondo te cosa dovrebbe fare la Juventus in questo momento difficile.